Ma oggi in piazza con i lavoratori e le lavoratrici ma soprattutto col paese perché il tema della grande crisi legata al mondo delle edilizie, al settore e a tutto quello che sta accadendo colpisce tutti noi. Devo dire che era un'operazione che avrebbe dovuto rilanciare il paese e oggi con questa manovra si affossa il paese ed è una preoccupazione che dovrebbe attanagliare la notte anche di chi ci governa e vorrei vedere un sindaco e un presidente di regione che vanno giù a Roma e si incatenano davanti al ministero. Lo dico provocatoriamente ma non è che perché se uno governa ed è del tuo stesso colore non devi dirgli che sta sbagliando. Credo che oggi ci vorrebbe questo segnale, credo che i lavoratori chiedano questo segnale.